Buongiorno, sono Armando Barricchio, ambasciatore Italia Washington. Benvenuto. Alle mie spalle Piazza Italia. E' questo il cuore pulsante dell'ambasciata, il nostro luogo d'incontro. E' qui che ogni giorno si organizzano iniziative, eventi, occasioni di contatto. Lo facciamo qui in ambasciata e grazie anche al lavoro della nostra rete consolare. Siamo presenti in tutto il paese, dalla costa orientale al grande centro, alla costa occidentale. Negli Stati Uniti vivono e lavorano oltre 250.000 italiani. Operano più di 1.000 aziende, centinaia di associazioni culturali. Le relazioni politiche sono strettissime. I rapporti economici sono in continua crescita. La cultura è il nostro principale biglietto da visita. Accanto a questo, nostri imprenditori, ricercatori, sono attivi nei settori delle nuove tecnologie e delle innovazioni. Ma ciò che unisce soprattutto Italia e Stati Uniti sono valori comuni, il nostro forte impegno europeo e il legame transatlantico. Rappresentiamo qui negli Stati Uniti la ricchezza e la diversità del nostro territorio. Tuteliamo gli interessi di un paese che ha alle spalle una grande storia, una storia unica, ma che guarda con entusiasmo, con curiosità, al futuro e all'innovazione. La nostra ambasciata, come vedete alle mie spalle, ha le pareti di cristallo. Siamo aperti al confronto e sarete tutti benvenuti. Potete seguirci sia qui che sui social media. Benvenuti.